Buongiorno, ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Venerdì 24 gennaio andiamo a vedere insieme come titolano le principali pagine locali. Iniziamo dal quotidiano del Molise. Apertura dedicata alla cronaca. La Camorra vuole fare il pieno, alle porte di Campobasso segue strato un distributore di carburanti. L'inchiesta della distrettuale antimafia di Napoli sul clan Contini tocca anche il Molise. E poi la conferenza delle regioni, Cassa Integrazione e Frattura, il governo calcoli fondi come saldo del 2013. Zuccherificio, bieticoltori e vertici aziendali si accordano a metà. E poi da Campobasso in taglio alto ultimatum di Biggino alla Giunta, chi tradisce si becca la revoca primaria del centrodestra il prossimo 9 marzo. Il congresso PD, la direzione, approva il regolamento e pacifissi cercano un candidato unitario. Da Iserni alla questione dell'ITR e la società quotata in borsa, che guarda con interesse all'azienda tessile di Pettoranello, intanto oggi si marcia su Roma. L'azienda di Biella acquisisce e rilancia imprese in difficoltà. E poi ancora la cronaca da Santa Croce di Magliano, mezzo dei Vigili del Fuoco, si ribalta durante un soccorso. Le notizie di sport, i lupi tutti uniti per tornare allo stadio, tifosi e squadra rifanno il look al Romagnoli. E poi la serie di Termoli, domenica rientrano Palumbo e Santoro. Ancora la serie di Agnone si gioca la salvezza nel mese di febbraio. Andiamo ora a vedere le prime pagine interne del quotidiano del Molise dedicate alla politica e all'attualità forestale. Arrivano più di 2 milioni, l'assessore Facciola e i cantieri saranno aperti il prossimo 3 febbraio. Ancora è illustrato con Iacobucci il nuovo progetto e il contratto rispetterà le 151 giornate di lavoro. Sistemi di sorveglianza, l'opposizione di Palazzo Maffa, collaboriamo per il bene dei cittadini, la proposta di legge e finanziamenti di 5 milioni per i prossimi 7 anni. Intanto gli indignati replicano al centro-sinistra, avete fatto solo promesse elettorali, noi lottiamo per il bene della Regione. Ed è stato presentato ufficialmente ieri l'italiano per integrarsi, il progetto FEI ancora a San Francesco. Lupo, l'ordine del giorno ricorda il suo spirito di profonda devozione. Cassa integrazione, frattura batte i pugni, il governo riconosca i 400 milioni come saldo. 2013 il governatore, se non si torna indietro, i tagli della legge di stabilità saranno pesanti. Ancora la politica a congresso del partito democratico, via libera al regolamento. La direzione ha definito le regole per le primarie, se non ci saranno tre proposte non si faranno. Nel partito si gioca ad astuzia, ma i pacifisti cercano un candidato unico, il presidente condivido la riforma elettorale. E poi la questione del recupero dei sottotetti Cotugno non sana agli abusi. Il consigliere spiega, gli oneri saranno al 30%. Venitelli fa sapere, Renzi sta invertendo la rotta del Paese. Caso Biocom, i 5 Stelle interrogano il Consiglio regionale. Bene, dal quotidiano del Molise ci spostiamo ora a vedere la testata online di Informa Molise, del settimanale del Molise, per vedere le notizie in primo piano. In apertura, in primo piano troviamo la questione Frattura e Garavaglia. Il governo faccia un passo indietro sui tagli alle regioni. L'appello che arriva anche dal Molise e poi da Porto Cannone. Il caso Don Marino interviene il tutore pubblico dei minori della regione Erminia Gatti. Ancora Santa Croce di Magliano. La cronaca si ribalta mezzo dei Vigili del Fuoco, due feriti. La guardia di finanza dice clan dei Contini, sequestrati anche nella provincia di Campobasso per una maxi operazione delle fiamme gialle. Sostituzione del lavoratore in maternità, sconti del 50% sui contributi. Troviamo tutta la nuova normativa. E poi presentato il progetto Calenarte 2014. Bene, da Informa Molise ci spostiamo ora a vedere la prima pagina di primo piano Molise. Anche qui è la cronaca ad aprire la pagina. La Camorra fa fare in Molise sequestrato alla periferia di Campobasso un distributore di benzina gestito da una testa di legno del clan Contini. L'operazione della finanza su disposizione della DDA di Napoli. L'impianto utilizzato per riciclare fondi neri. In taglio alto troviamo la politica dal capoluogo. Sindaco di Bartolomeo, il centrodestra, sindaco, il centrodestra, vota il 9 marzo i candidati. Entro il 12 febbraio, intanto il PD definisce le regole delle primarie. Si lavora per il segretario della pacificazione. Da Pettoranello, l'ITR, l'offerta del fondo, due anni per rilanciare l'azienda. La holding milanese rappresenta l'ultima speranza per i dipendenti. E poi il day after a Venafrosale, l'allarme, i residenti chiedono più controlli. Sorbo dice, meno confinati sul territorio. Da Baranello, autocontrobetorino, era ferito un giovane di San Giuliano del Sannio, il trentenne trasportato d'urgenza al Cardarelli. Ancora la cronaca. Da Santa Croce di Magliano si ribalta autobotte dei pompieri, due vigili ricoverati in ospedale. E sempre la cronaca da Isernia. Ladri di slot messi in fuga dall'antifurto, rintracciati dagli agenti della mobile. Andiamo ora a vedere le notizie di sport. Campobasso, tifosi, atleti e dirigenti sistemano il Romagnoli Atletica. Un successo, la cerimonia annuale a Colle d'Anchise. Andiamo ora a vedere anche qui le prime pagine interne di primo piano Molise. CGL Cisle Will, titola primo piano in conclave sul piano di rilancio GAM pronti al confronto. Alla regione saranno segnalate le criticità a fondi per la ristrutturazione e cooperative i punti sensibili. Video sorveglianze e dispositivi di polizia rafforzati. C'è il DDL, lo prevede una proposta del centro-destra di Palazzo Moffa, dotazione del 5 milioni di euro. Cavaliere Fusco, Molise, terra ancora tranquilla ma vogliamo mantenerla così. Il caso Biocom e il conflitto di interesse del Movimento 5 Stelle interroga il Presidente Fratture. Ancora la nuova disciplina, recupero dei sottotetti, Cotugno promuove le modifiche e vantaggi per le famiglie e gli enti locali. La questione dei forestali, cantieri al via il 3 febbraio, facciola dice a disposizione oltre 2 milioni di euro. In taglio alto c'è la politica, Partito Democratico, pricing per una candidatura unitaria, ma la Renziana Fanelli ricorda anche in Molise c'è voglia di rinnovamento. Intanto ieri sera via libera regolamento per le primarie delle a 16 febbraio. Legge elettorale, Frattura dice sì in linea con gli impegni presi per l'abolizione del Senato, Renzi rispolvera la proposta di ruta. Fondi per la Cassa Integrazione, le Regioni, 400 milioni come saldo del 2013, la richiesta arrivata dal Governatore che ha coordinato i lavori della conferenza. Caso miniscalco o dunque ancora la politica, la Corte frena gli entusiasmi. Partecipate, conti rosso della Regione, gli indignati replicano ai consiglieri di centro-sinistra. E poi l'intervento Italicum non esclude il veto dei piccoli, bisogna coniugare stabilità e rappresentanza. Da primo piano Molise ci spostiamo ora a vedere la prima pagina della Gazzetta del Molise. In apertura Papa affiancato da D'Angelo per aiutare o affossare le indagini sul questore si chiede la Gazzetta del Molise che ricorda ai lettori che il sito internet della Gazzetta è di nuovo attivo su www.lagazzettadelmolise.it. L'Oscar del giorno oggi va al senatore Roberto Ruta, il tapirò del giorno al consigliere regionale Nicola Cavaliere. Poi in taglio basso troviamo la questione caso Bioco a Migrilini al Governatore e restituirà i soldi, chiedono la segreteria del PD. Ruta e Frattura si alleno per far fuori Micaela Fanelli. Regione, la giunta chiude l'ARPA Ambiente senza controlli da Campobasso, le primarie del centro-destra dopo Cefaratti spunta Frangioni. Andiamo a vedere anche qui le prime pagine interne. Frattura quando restituisci i soldi ai molisani, il Movimento 5 Stelle che interroga il presidente sui fondi pubblici intascati con la società Bioco, oggi sotto inchiesta, in evidenza il conflitto di interessi del Governatore dovrebbe recuperare la somma da un'azienda di cui era socio. Ambiente senza più controlli, la regione chiude l'ARPA, si alza la protesta, l'iniziativa del Governatore di Facciolla è incostituzionale, fanno sapere proprio le RSU del comparto dell'ARPA Molise. Ancora il caso Frattura Pozzo, i dubbi sulle indagini, l'affiancamento al PM Fabio Papa è fatto per aiutare o bloccare l'inchiesta. Si chiede ancora la gazzetta e poi il centro-sinistra che provoca e gli indignati che rispondono. Bene, con la gazzetta del Molise chiudiamo. La sezione è dedicata alle pagine locali, ci spostiamo ora a quelle nazionali. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa di Torino. Capitale all'estero, ecco il decreto, molte ridotte per chi si autodenuncia oggi al via, la privatizzazione delle poste. Letta gelido sulle liste bloccate, Renzi con i franchi tiratori, legislatura a rischio, Grillo la nuova legge elettorale, serve a farci fuori la minoranza PD, frena sugli emendamenti, Rubiter, inquisito, Berlusconi ha corrotto i testimoni. E poi la fotonotizia, droga e alcol, arrestato l'idolo delle ragazzine, già si imbieve subito, rilasciato su cauzione, guidava una Lamborghini a 100 all'ora in città. Dalla stampa ci spostiamo a vedere la prima della Repubblica, ancora la politica, le riforme, letta, sfida, Renzi, no alle liste bloccate. Ora una legge sul conflitto di interessi, il premier all'attacco dopo il patto tra il sindaco e il cavaliere, la replica, svolta o legislatura a rischio, la minoranza PD annuncia degli emendamenti. E poi vasi 50 miliardi, sanatoria sulle multe, la finanza, sottratto il 3% del PIL, cartella Equitalia, scatta lo sconto anche sui bolli arretrati. Dalla Repubblica, andiamo a vedere la prima del messaggero, multebollo, ecco la sanatoria, titola il messaggero, fino al 28 febbraio, nessun interesse per chi paga le cartelle di Equitalia, rateizzazioni escluse, ultimo giorno per i muettares, da domani mini sanzioni, saccomanni, caos, colpa della politica e poi ancora le dismissioni al via la privatizzazione del 40% delle poste, il tesoro può incassare fino a 8 miliardi. Ancora la legge elettorale, alto la diletta, Renzi si salta subito al voto, il premier no a liste bloccate, deve scegliere il cittadino. Nel messaggero ci spostiamo ora a vedere le notizie di Sport, con la Gazzetta dello Sport, Milan e Inter, perché sono cadute così in basso, titola la Gazzetta. Per ritrovare le milanesi in una simile crisi bisogna tornare indietro alla stagione 94-95, quella del passaggio di proprietà tra Pellegrini e Moratti e dei rossoneri finalisti, poi battuti in Champions. Alla base degli insuccessi di oggi ci sono molti colpevoli e scelte di mercato. sbagliate per quanto riguarda i nero-azzurri, Toir replica Marotta, nessuno può criticarci. Poi la Fiorentina che va, Ilicic e Camper, gol, il Siena si arrende, semifinale di Coppa Italia contro l'Udinese, e poi la Juve, silenzio stampa, Conte, Vucinic c'è e si allena. Dalla Gazzetta dello Sport, andiamo ora a vedere il Corriere dello Sport, Furia, Toir, Guarin da Mancini, il presidente, replica alla Juve. L'Inter è un modello di integrità, non permetto critiche esterne. Il mercato, il Galatasaray, sul colombiano l'affare si può chiudere, Vucinic all'asta, ipotesi Monaco. Intanto il Milan, arriva e Siena, intesa con il giocatore del Chelsea, può fare la Champions. Bene, con le notizie di sport, la nostra rassegna stampa termina qui. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale alle 13.50. Vi lascio alle previsioni meteo e vi auguro una buona giornata. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per venerdì 24 gennaio. Sul Molise la perturbazione giunta in nottata rinnova una giornata all'insegna della diffusa nuvolosità in transito, responsabile di precipitazioni sparse. Ma seguire il tempo non migliora, visto che un nuovo freddo arriva portando con sé un nuovo peggioramento da ovest, con neve in calo anche sotto i mille metri. Venti in rinforzo, con mare mosso, temperature stabili o il lieve rialzo nei minimi. Andiamole a vedere nel dettaglio. Campo basso minima 3, massima 8 gradi. Isernia minima 4, massima 11 gradi. Termoli minima 9, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Il meteo è stato offerto da